Anche quest'anno Oristano si conferma la provincia più sicura d'Italia. Lo attesta all'annuale classifica sull'indice di criminalità pubblicata oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Oristano con 1.611 denunce precede Pordenone, Belluno e Potenza. Non siamo di fronte solo a un dato statistico, commenta il sindaco Andrea Luzzo. Questa è una caratteristica storica della città abitata da persone tranquille. Per questo motivo siamo molto attenti ad ogni segnalazione o denuncia che arriva. Ci siamo immediatamente mossi per esempio con azioni come il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica come misura deterrente e abbiamo presentato i progetti e le richieste di finanziamento per l'estensione della videosorveglianza.